1.100 metri di strada fra strettoie salite ripidissime e tornanti da paura. E' quella che serve alle abitazioni della località Davine di Lovere. Vi risiedono qualche decina di famiglie e un centinaio di persone, per lo più anziane, che da oltre 30 anni chiedono di entrare, se non proprio nel XXI, almeno nel XX secolo. La strada è infatti ormai inadeguata ai tempi e non per capriccio di chi vorrebbe comprarsi un'auto sportiva o potente, ma per questioni di sicurezza. Qui le ambulanze non arrivano, non parliamo dei mezzi di soccorso dei vigili del fuoco, ma non arriva neppure il furgoncino dell'idraulico o quello del muratore. A Monte, perché arriva da Qualino, vi sono pendenze importanti e tornanti. A Valle, perché arriva da Lovere, la famosa strettoia di Davine. Per chiedere che finalmente si trovino soluzioni è nato un comitato, una strada per Davine, che il 27 marzo scorso ha inviato le proprie richieste iscritte agli amministratori ed ora le affida anche ai nostri microfoni. Chiediamo la possibilità di avere una strada che ci permette di avere una situazione di sicurezza nel momento che c'è un pericolo. In questo momento le strade che portano alle nostre abitazioni non lo permettono. Da un lato la strada è troppo stretta, dall'altro una situazione di strada impervia in cui due tornanti non permettono il passaggio di mezzi e quindi non permettono l'arrivo di questi mezzi nelle vicinanze alle nostre abitazioni. Ci sarebbe già un progetto che un privato ha fatto realizzare e poi ha donato al comitato che lo ha depositato in comune. Questo potrebbe accelerare i tempi e far risparmiare l'ente pubblico, ma il comitato è aperto anche ad altre soluzioni. Noi non è che spingiamo solo esclusivamente quello, noi chiediamo semplicemente veramente una strada. Non ci sarebbero, secondo i residenti, progetti chiari per via Davine. Nella lettera di risposta che il comune ha spedito al comitato il 29 aprile scorso vengono elencate una serie di azioni che presto passeranno alla fase di realizzazione per sanare alcune criticità del territorio. Per via Davine si dice che nello scorso autunno sono stati condotti sopralluoghi per verificare la possibilità di installare un semaforo ai due estremi della strettoia iniziale, progetto che l'amministrazione comunale starebbe studiando per destinare a bilancio le necessarie risorse. Sarebbe però solo una mezza soluzione al problema, visto che gli stessi amministratori ammettono che rimangono comunque da risolvere le criticità di accesso alla parte alta di Davine, quella al confine con Qualino, sulle quali si dovrà iniziare a trovare le necessarie soluzioni. Ad oggi le risposte che sono state date sono molto fumose, si può dire, e poco attinente a quello che chiediamo noi. C'è stato detto che l'idea è poter pensare un progetto più in grande, quindi un progetto che potrebbe sistemare tutta la situazione della nostra zona, però ad oggi un progetto non c'è, un'idea non c'è. La situazione quindi non è facilissima da risolvere, perché lo capiamo tutti, però capiamo anche il fatto che se nessuno parte, se nessuno inizia a poter iniziare a mettere un tassello, questa cosa sicuramente non si risolverà da sola.